Cresce l'entusiasmo per la prima uscita targata a Camplone dei Biancorossi. Domani alla Spezia alle 20.30 i Biancorossi sfideranno lo Spezia Calcio sul terreno dello stadio Alberto Picco. All'anticipo contro lo Spezia i Galetti arrivano dopo tre sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare la squadra al sesto posto lontano dalla promozione diretta. La vittoria dunque appare l'unico risultato a disposizione. Domani al suo esordio da allenatore biancorosso al picco di la Spezia a Camplone farà la differenza. Intanto i tifosi biancorossi che volessero seguire la loro squadra in trasferta alla Spezia hanno a disposizione un volo charter organizzato dalla Balkan Express. Il fly tour operator nato nel 2008 e sponsor ufficiale dei Galletti ha organizzato per domani 15 gennaio un charter per la squadra stessa e per i tifosi. Volo andato e ritorno con partenza da Bari e trasferimenti da aeroporto a stadio e viceversa a 160 euro a persona. L'aeromobile partirà dall'aeroporto di Bari-Palesia alle 12.40 di domani con rientro dopo la gara.